Io leggo perché mi piace. Io leggo perché leggendo impariamo tante cose, soprattutto i vocaboli. Io leggo perché leggendo arricchiamo la nostra fantasia. Quando leggiamo un libro possiamo provare i sentimenti dei personaggi. Possiamo capire se i personaggi sono tristi, arrabbiati, impauriti. Insomma, possiamo capire il loro stato d'animo. Leggendo viaggiamo con la mente in posti nuovi e meravigliosi. Io leggo perché quando siamo soli e tristi ci fa sentire molto meglio. Aiutoci ad arricchire la nostra biblioteca perché è importante leggere.